Ciao bambini, eccoci qua. Questa è la storia della gallina berenice, che in questo momento non è tanto felice. Se ne va di qua e di là, nell'aia, a razzolar, preoccupata di come far a covare uova in quantità. Uova per ricorrenze speciali, perché si sa, fra poco Pasqua arriverà e tutti dobbiamo festeggiare. Uova colorate, ma come si fa, si chiede alla gallina berenice. Forse, chissà, con un po' di fantasia, un pizzico di allegria, il colore apparirà. I giorni passano e la gallina berenice, delusa, non riusciva a deporre uova colorate. Le sue uova, infatti, erano sempre bianche. Ormai non c'era più speranza. La festa arrivava e gallina berenice aspettava. Quando proprio in quel momento un vispo pulcino, assai carino, pigolando, salutò. E buona Pasqua augurò. Adesso alcune curiosità sulla Pasqua dall'uovo pasquino, l'uovo birichino. L'uovo è il simbolo della rinascita e tanto tempo fa si cominciò in occasione della festa di Pasqua a donare delle uova come simbolo d'amore e di speranza ed era legato anche alla celebrazione della primavera. Le uova venivano immerse in decotte di erbe per assumere i colori dei campi nella bella stagione e simboleggiare la vita che ritorna. E ora gioca con me. Buon divertimento! Ciao bambini!